Buonasera a tutti, buonasera a Novis, il telegiornale in Marilanghe di Telefriuli Coscomenzen, con il bollettino. Buonasera a tutti, buonasera a Novis, il telegiornale in Marilanghe di Telefriuli Coscomenzen, il telegiornale in Marilanghe di Telefriuli Coscomenzen, il telegiornale in Marilanghe di Telefriuli Coscomenzen, la sarà processata per resistenza a uffici al pubblico e per violenza. E' una giornata di ricordi che di voi avvaiate per svittimità dei disastri del 9 di ottobre del 1963. E' una giornata di cerimonia di partecipanti del Presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, dopo che già hanno passato l'appuntamento alle risaltate per la Covid-19, ma le condizioni di salute del Presidente non hanno permesso la sua presenza. E' una tragedia, alla ditta invezzita il Presidente del Regione Fruvignese Giulio Massimiliano Fedriga, causata non odome dalle sieltis, che non ha tignut conto dall'ambiente, ma anche di manchiace di scolte di popolazione locale, un patrimonio di cognoscenze e savietà, che la sovost non è stata dal dutt deludute. Sarà sierate di notte tra sabide e domenie il toc di A4, i tiappati dentri tra San Stindilivence e il svincolo di Tisani, in tutti i sdossi e le direzioni per permettere le varamente le ultime campade dal quinto e quinto in costruzione in Talseng al Visopoli, groppo di Puarte. Intanto procedono i lavori per prima parte dal secondo lotto con 9 km di cantiere per tiarci e corsie. E' in corso l'appoggiato dei barrieri sfonoassorbenti dai guardrail. Settemane passate, l'estate, è barato il new point dal groppo di Puarte, lungo e più dal doppio a pet di quel attuale. E' un casco particolare, bondi mappali, sondi cerebrali, per capire molto di sviluppare collaborazioni tra lavoratori, e creare ambies di lavoro stimolante. Il nuovo progetto di associazione facilitadores risorsi umani è presentato in Regio Centenne. C'è che ci dice l'esperto. Voi presentiamo a Facilità 2021 un progetto veramente interessante, che è rivolto alle aziende, ai manager, dalle pubbliche amministrazioni e anche dal privato. Il progetto è di facilitazione delle risorse umane, cioè lavorare in team, lavorare con le persone, lavorare per fare in modo che le aziende, i team, vedano una performance ideale e che migliorino anche il clima di lavoro all'interno delle aziende. Ecco che per questo motivo avevo invitato con le Università Cattoliche di Milano la somminuzione dei ricercatori di neurofisiologia, che ammetteremo dei cascetti sostanzialmente, tra il chiave delle persone, e io daremo in diretta, perché almeno in modo oggettivo, all'interno di queste persone. E questo è veramente importante per le emozioni che noi viviamo, soprattutto dopo il Covid, le emergenze sanitarie che vivono, che stanno vivendo al ritorno al lavoro in persone. Dunque le emozioni che stanno vivendo, le relazioni che stanno vivendo all'interno, sia dalle famiglie, ma anche all'interno del mondo del lavoro. Dunque questo è importante, in modo oggettivo, perché vengono dentro il chiave delle persone, in modo tale di aumentare le consapevolezze che abbiamo, e migliorare, ad esempio, dalle caratteristiche, dalle abilità, come il problem solving, dunque la risoluzione dei problemi, come la capacità di capire le decisioni veloci ed efficaci, e anche come flessibilità cognitive. E come ossa in al sport, all'ascommenzarà domande sere, le stadioni di serie B di UEB Gesteco-Cividat, che affrontarà al Paraperusini Bologna Basket, e si rinnova la collaborazione tra la squadra cividina, e le Friuli, e la media partner in esclusiva regionale, del Supercoppa, la partita tra Gesteco e Bologna, e la Rai non de domande sere, rettacante, del Nuf e Miege. In spiette, del Maratone di Udini, in programma domenica, la città si prepara, e si è radis, dal passaggio, dai pudisti. La partenza è fissata, in via di Vittorie, con rivade, 21 km dopo, in via Vittorio Veneto. Di più manco, l'unione prima, dal principio delle corse, fin al termine, delle stesse, placche delle libertate, via Cavour, saranno sieradis, in tante altre strade, interessate, del Miege, Baratone, e venneranno sieradis, al traffic, fin al passaggio, delle macchine, di fine corse. La prima partenza, in programma, è il Nuf e Vinti e Cien, con i carocini, e l'Olimpionics, e dopo, è il Nuf e Miege, la partenza, vera, poi, in 500 metri, si può dire, e varando, metti, la mascaruta, sono, un e vorre, gli atleti, iscritti alla gara. E, è stata inaugurata, una mostra, che è stata dedicata, a Pierluigi, Capello, non si spiega, dote, l'assessore comunale, Valentina Mansutti. Allora, questa giornata, è riuscita, anche, grazie alla collaborazione, di diversi sforzi, come amministrazione comunale, o veng, intitolata, veng, proprio, in occasione, di ricorrenza, di sommo art, la scuola, dedicata a Pierluigi, Capello, la scuola dell'infanzia, quindi, dai, dai, poi piccoli, dal nostro paese. Oltre a questo, il Comune, ha realizzato, un e mostre, che c'è, della collaborazione, sia, di operazioni, già, metti, a disposizione, del Comune, di Prato Carnico, sia, anche, opere, dagli artisti locai, che hanno deciso di interpretare, in immagini, disegni, e in opere d'arte, alcune screse, dall'autore stesso. La giornata, si concluderà, anche, questa sera, con un momento, dedicato, sia, di raccoglimento, con la messe, celebrata, proprio, in Teglese, di Chiasa, e sia, poi, un ulteriore, momento di riflessione, promuovuto, dell'associazione, di Pierluigi Cappello. E allora, le reanti, dott, e paru, e siribio, e l'unis, simpri, dopo, il tigide, di senuf, di Telefriuli. Grazie, e mandi. Grazie.